Michele Pirro, in un momento particolare che sta vivendo anche la Ducati, perché si parla del contratto di Dovizioso, si parla di piloti che se ne possono andare, di piloti che arrivano in testa al Mugello, insomma c'è molto in questo momento. Sì, è un momento particolare, soprattutto perché abbiamo raccolto con Dovizioso meno di quello che ci si sperava, soprattutto nell'ultima gara a Erez, e poi c'è il discorso del contratto, ma credo che alla fine nel giro di qualche giorno si andrà verso la risoluzione. Come tutti sperano che Dovizioso rimanga ai Ducati, e quindi credo che sia la cosa migliore, anche perché così si possa lavorare in modo sereno e concentrarsi per le gare. È chiaro che i test al Mugello hanno confermato l'ottimo stato della Honda, che ha fatto un grande lavoro, e Marquez che va fortissimo, però è chiaro che la gara è fra tre settimane, sarò in pista anche io con la terza moto ufficiale, quindi dobbiamo cercare di ripetere le prestazioni dell'anno scorso, anche se a quanto pare non è proprio scontato, è semplice, perché la Honda ha migliorato veramente tanto. Grazie a tutti.